L'incontro è andato molto bene, grazie anche alla disponibilità del Ministro ad ascoltarci e a prendere in considerazione alcuni spunti che abbiamo avuto in questa occasione di presentare, in particolare relativi alla promozione. Adesso mettiamo un attimo da parte tutto il problema, una serie di problemi che abbiamo avuto nel recente passato non sono risolti definitivamente, questo l'abbiamo fatto presente al Ministro, ma puntiamo adesso a concentrarci sulla promozione del nostro Paese e sugli strumenti di questa promozione, che sono sicuramente questo Digital Hub che il Ministero insieme a Enite stanno realizzando. È un investimento importante, fa parte degli investimenti previsti da PNRR, sono tanti milioni di euro e noi vorremmo ovviamente che questo fosse uno strumento che funzionasse finalmente dopo tanti tentativi andati a vuoto. Oltre a questo strumento noi abbiamo proposto naturalmente anche altre cose, come ad esempio la promozione del nostro Paese attraverso il cinema. Sappiamo bene che CNA è fatta di tantissime anime, una di queste è l'anima del cinema audiovisivo, insomma abbiamo proposto a fianco a quello che rappresenta l'accordo che ha avuto il Ministero e Enite con Netflix, che è una piattaforma internazionale americana, di avere anche a disposizione uno strumento tutto italiano, si chiama Move Italy, ed è uno strumento proprio creato apposta per questo tipo di esigenze. Proprio in questi giorni viene presentato al Festival di Cannes per dare modo di far conoscere questo strumento, che attualmente è presente sulle piattaforme americane, in particolare Nord America, Stati Uniti e Canada. Questo è un po' quello che abbiamo in modo veloce rappresentato, devo dire che c'è stata anche un'interessante interlocuzione con il Ministro a proposito dei problemi del lavoro. Ci sono delle iniziative che il Governo sta prendendo per cercare di mitigare il problema legato anche al reddito di cittadinanza, quindi trovare dei modi nuovi, possibilmente più umani, tra virgolette, per cercare di portare i giovani, soprattutto i giovani, a questo impegno lavorativo, perché senza le risorse umane ovviamente noi non possiamo pensare di poter portare avanti questo grande sviluppo che grazie a Dio sta arrivando. Il lavoro che noi dobbiamo fare è quello di organizzare una migliore rappresentazione di noi stessi, delle nostre imprese e questo viene soprattutto attraverso il servizio. Se il servizio funziona e se naturalmente le bellezze vengono messe a fattore comune, benissimo, allora avremo un successo che durerà nel tempo e non sarà soltanto episodico.